A 20 giorni dal suono della prima campanella sull'anno scolastico 2021-2022 previsto il 15 settembre, le Marche si preparano al rientro in aula in didattica in presenza divise fra obblighi e opportunità. L'imposizione del Green Pass al personale scolastico per accedere agli istituti sta spingendo la Regione a munirsi di ampie dotazioni di tamponi per andare incontro a quella componente, seppur minoritaria, riluttante al vaccino. Gli assessori Giorgia Latini e Filippo Saltamartini hanno infatti preannunciato l'acquisto di 500.000 test salivari dopo il confronto tenutosi ieri con quattro comitati marchigiani rappresentanti presidi, docenti e personale favorevole alla libera scelta vaccinale. Allo stesso modo le Marche si stanno facendo carico di insistere con la conferenza Stato-Regioni per riconoscere la validità per il Green Pass anche ai cosiddetti tamponi lecca-lecca, validità che attualmente è in vigore solo per i test molecolari. I salivari invece sono più rapidi, economici e ritenuti affidabili ma non ancora inclusi nell'avvalorare la possibilità della certificazione verde. 500.000 test salivari rappresentano un altro consistente investimento della Regione dopo lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'acquisto di impianti di ventilazione meccanica e sanificatori in vista dell'anno 2021-2022. Insomma si sta cercando ogni strada percorribile per garantire il regolare svolgimento delle lezioni anche a coloro che non vogliono vaccinarsi. Ma mentre nel personale scolastico i non immunizzati restano una minoranza, l'ultimo report dell'ufficio scolastico regionale riporta come solo uno studente su tre al momento risulti vaccinato. L'accelerata è infatti di appena il 2% di vaccinati in più rispetto a una settimana fa. In pratica la campagna vaccinale cresce ma senza decollare. Nei ragazzi fra i 12 e i 15 anni risulta infatti che solo il 18,5% è stato completamente immunizzato mentre alla data di ieri hanno ricevuto anche la seconda dose il 48,7% dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni. Secondo l'osservatorio epidemiologico regionale mancano dunque ancora l'appello della prima dose 46.000 giovani in età scolare pari al 42,4% della popolazione studentesca marchigiana. www.atmos скорее del 99.000 giovani in età scolare